Sono Rossana Cavallaro, il broker di Remax Arteca, una vera e propria organizzazione immobiliare, composta da persone straordinarie ed appassionate, di cui sono fiera ed orgogliosa. L'immobiliare ha sempre fatto parte della mia vita, in quanto figlia d'arte, papà si occupava di costruzioni sia pubbliche che private e quindi la scelta di un percorso accademico in architettura. Subito dopo la mia laurea, la sua improvvisa scomparsa mi ha portato a selezionare le società di famiglia gestite da lui. Qualche anno dopo un mio carissimo amico mi parla di Remax. Il modello che ha rivoluzionato il sistema immobiliare tradizionale a livello internazionale e di conseguenza anche la figura del consulente immobiliare. Sono Simone Vasta, broker di Remax Arteca. Ho iniziato a fare l'agente immobiliare nel 2007, subito dopo la mia abilizzazione. Nel 2015 mia moglie Rossana decidiamo di intraprendere la carriera da broker. Da lì a breve con mio marito sposiamo il progetto, un sogno che diventa un progetto e nasce Remax Arteca. Oggi Remax Arteca conta di due sedi, una sede direzionale ad Acireale ed una sede nei paesi etnei a Santa Venerina. È un team di 30 persone con la quale condividiamo ogni giorno l'obiettivo di essere una squadra vincente, al fine di offrire ai propri clienti un servizio d'eccellenza, garantendo la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza immobiliare di vendita o di acquisto. La nostra intenzione è quella sempre di crescere, di fare sempre di più, di crescere in team perché crediamo fortemente nella collaborazione. I nostri progetti per il futuro sono tanti e li possiamo conquistare solo grazie al lavoro in team. Remax Arteca ti dà la possibilità di crescita professionale attraverso la condivisione e la costante formazione nel settore immobiliare internazionale. Se stai valutando la possibilità di una carriera di successo nel mondo immobiliare, sarà per me Simone un piacere poter condividere con te e offrirti quali vantaggi può darti la nostra azienda. Diventa l'imprenditore di te stesso, in proprio ma non da solo. In proprio ma non da solo, ti aspettiamo!